No, no, non credo che dovremmo. Beh, io ci provo. Aspetta, metterla, fammi chiedere. Prima, fammi chiedere. Ehi, perché i prezzi sono coperti? Quanto viene un litro di benzina, quella normale? Ah, è solo che per il momento non è impostato. Guidi un'ibrida? Sì. Sovrapprezzo. Voi ragazzi viaggiate insieme? Sì. Sovrapprezzo per car sharing. Prendi quell'adesivo. Ti farò un euro di sconto. Va bene, senti, se proprio vuoi uno sconto, compra una delle nostre tanniche di benzina, riempila e ti farò un altro euro di sconto. Cosa? È più conveniente se compri tutto assieme. Non potrebbe dirci semplicemente il prezzo? I prezzi fluttano in base a tanti fattori diversi. È solo scienza. Scienza? Se non si può acquistare la benzina a causa di prezzi arbitrari, come possono i paesi acquistare vaccini salvavita in questo modo? Richiedi vaccini a prezzi equi a Pfizer e GSK. Questo non è giusto. Lo so, anch'io la penso così.